La terra di mezzo l'ombra di Mordor è stata una delle più grandi sorprese dello scorso anno. Un titolo tutt'altro che originale, ma al tempo stesso inaspettatamente solido ed appagante. Dopo un primo DLC non troppo riuscito, gli sviluppatori di Monolith hanno deciso di alzare il tiro, riportandoci indietro nel tempo di migliaia di anni e consentendoci di vestire i panni di Celebrimbor, già forgiatore degli Anelli del Potere e compagno di viaggio del Ramingo Talion nell'avventura principale. Anche questa volta potremo accedere ai contenuti del DLC direttamente dal menu principale, scelta che ci è parsa più che giustificata. Anche la decisione di farci controllare sin da subito un personaggio completamente potenziato ora ha perfettamente senso, se pensiamo al ruolo ricoperto da Celebrimbor nella vicenda. Discorso ben diverso invece per l'ambientazione, che continua inspiegabilmente ad essere la stessa di sempre nonostante il grandissimo salto temporale. Le dieci missioni presenti nel gioco non sono nient'altro che variazioni sul tema di quelle già viste nella trama principale, ed il tutto è facilmente completabile in circa tre ore. I punti deboli dei vari capitani saranno visibili sin da subito, senza alcun bisogno di scoprirli utilizzando un approccio più tattico. Contestualmente all'arrivo del nuovo protagonista, gli sviluppatori hanno cercato di rivedere alcune dinamiche di gioco, aumentando a dismisura il numero di nemici presenti nella mappa. Anche i cinque capitani che dovremmo soggiogare si sono dimostrati fra i più coriacei di tutti quelli incontrati finora, ma questo non sembra aver alterato il grado di sfida del gioco. I combattimenti ci sono sembrati fin troppo semplici, ancor più di quanto non lo fossero quando impersonavamo il Ramingo Talion, più resistente ma meno letale di Celebrimbor. La possibilità di marchiare nemici per farli schierare al nostro fianco, che nella campagna del gioco principale era soltanto un'abilità marginale, ora rivestirà un ruolo di primaria importanza. Il gioco continuerà a forzare la mano, costringendoci ad utilizzare continuamente la stessa abilità. Un attacco ad aree è capace di marchiare istantaneamente buona parte dei nemici che ci circondano, ossia l'unico metodo efficace per contrastare le numerose armate di Sauron, una scelta che limita la libertà del giocatore e rende sin troppo piatta e monotone le fasi di combattimento. Non mancano inoltre fastidiosissime sezioni stelte in cui ci troveremo a marchiare un determinato numero di guardie nemiche senza farci scoprire, pena il fallimento istantaneo della missione. Spostando l'attenzione del gameplay alla narrazione, le cose non migliorano. Gli sviluppatori sembrano aver scelto di accantonare volutamente l'ottima premessa subito dopo il prologo, legando la progressione soltanto al massacro continuo di Orchi e a qualche dialogo inconsistente che di tanto in tanto farà da sottofondo all'azione di gioco senza mai interromperla. Il Lucente Signore è un prodotto decisamente dimenticabile, che getta alle ortiche il suo enorme potenziale a causa della palese svogliatezza con cui è stato progettato e sviluppato. Non solo fallisce nel tentativo di integrare con successo nuove meccaniche all'interno del combat system, ma peggiora sensibilmente l'esperienza di gioco per colpa di una progressione troppo frettolosa, che banalizza completamente ogni velleità tattica ereditata dall'avventura principale.